L'amministrazione comunale di Pescara continua ad avere un occhio vigile sulle naidi, soprattutto la Lega in questo caso. Oggi in conferenza stampa spiegherete qual è la posizione del partito. Sì, mi pare che le cose siano abbastanza chiare. Noi ribadiremo con forza che occorre riaprire le naidi. E siccome si sta giocando molto sulle parole, in maniera non sempre corretta, abbiamo convocato la conferenza stampa per fare chiarezza. La Lega voterà anche tra un minuto qualsiasi provvedimento finalizzato a riaprire le naidi nel più breve tempo possibile. La posizione sul project financing è altra, ma non è che l'approvazione del project oggi potrebbe determinare la riapertura delle naidi nel giro di qualche settimana. Sono due percorsi assolutamente distinti e separati. Quindi l'obiettivo di riaprire è essenziale. Abbiamo anche riconvocato un consiglio comunale straordinario perché è bene che ciascuno dei responsabili si assuma le responsabilità di fronte alla città. Per il Comune di Pescara e per la Lega che è partito di governo in questa città e in regione, riaprire le naidi, salvaguardare i posti di lavoro, tornare a restituire alla città questa struttura è un valore essenziale rispetto al quale non arretreremo di un metro. Voi ritenete che l'affidamento della struttura al Comune sia in questo momento la strada più percorribile? Guardi, noi pensiamo che la gestione pubblica sia quella che tutela maggiormente i lavoratori e i cittadini. Se la Regione, e quando parlo della Regione parlo in primis del Presidente Marsiglio e dell'assessore allo sport Liris, hanno idee diverse, noi siamo disposti a valutarle. Per noi l'obiettivo è riaprire. Sappiamo che c'è una strada maestra, quella della gestione pubblica, perché dopo 20 anni di disastri combinati dai vari privati, e credo di non offendere nessuno dicendo queste cose, perché la struttura è chiusa per colpa di chi evidentemente non ha saputo gestire fino ad oggi, non certo il Comune. Noi riteniamo che il Comune debba essere coinvolto, perché questa struttura è nel territorio della città di Pescara, è un servizio che si offre ai pescaresi. Dopo tanti anni sarebbe il caso di cambiare completamente pagina nella gestione delle naidi. Ci siamo candidati, lo abbiamo fatto per una ragione importante, cioè di restituire dignità, valore a questa struttura che ha una valenza più che territoriale dal punto di vista pescarese, va ben oltre anche i confini regionali. Fino ad oggi, oggettivamente, ciò che è stato fatto dentro le naidi non ci soddisfa.